Hello guys, io sono DaviRocket96 e oggi siamo qui per questo nuovo video Sì, come potete già notare, sono RocketDouga comunque da soli, da soli, sì Come potete già notare, già notare Ho un'auto un po' nuova Che ho scambiato per la Samurai Alcuni mi diranno, nè la Samurai era meglio, bla 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 No ragazzi, cioè sì ma io mi trovo meglio con questa comunque Vola, secondo me vola meglio Perché comunque, no, non lo so, vola meglio e secondo me volano uguali per me Questa è la Samurai Questa qua è più veloce E cioè mi trovo meglio, mi trovo meglio con questa, mi trovo meglio L'ho scambiata per la Samurai un secondo fa, prima di iniziare sto video Adesso andiamo a farci una, due Sperando che, raga non sapete quanti tentativi sto facendo Per i video Questo video sto rifacendo duemila volte Perché continuo, nelle doppie, continuo a farmi entrare una partita già iniziata Ma basta Raga a me da fastidio Scrivete nei commenti se vi da anche a voi fastidio sta roba Che è tipo Cioè è proprio fastidioso Non fare Raga tre volte che faccio il video Tre volte Ma vado Pensava lui Pensava Sì se non mi tancano Ma perché c'è il mio compagno che deve nu- che deve fare schifo No eh se me lo fregava Se me lo avesse fregato raga Togli l'ignorante Ma il mio compagno è scemo Ma gliela sta mettendo due volte È due volte di fila che gliela mette Raga 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 quanto odio il mio compagno Dopo questa ci facciamo un uno vi uno Quanto fa schifo il mio compagno che mi sta sotto le palle Levati, levati, levati Ti devi levare che non servi a niente e a nessuno Ma perché il mio compagno esiste Cosa ho fatto io di male per trovarmi sto bot Ma mi dispiace cosa che sei un bot Sì ti dovrebbe dispiacere di essere nato E di rompere le pape a me Ma perché sto qua poi gli dà la parata Se la parata era ancora sul palo era Però la parata gliela dà sto qui No raga torno in difesa perché il mio compagno ci ha botti È troppo bot Non so perché ho voluto derrapare Va a morire Ma basta Come fa ad arrivare sempre in porta Raga È impossibile che Cioè una volta che devo fare un video con la macchina nuova Devo incontrare gli unici pro che ci sono al mondo Ma che palle Come fa ad arrivare in porta in così poco tempo Cioè un tipo Che ci ho messo un millisecondo a fare il tiro La palla in un millisecondo è arrivata Sto qua come fa ad essere Oh Come fa ad essere in porta sto tipo Grazie Guarda Era dietro di me E c'era l'altro in porta Ma non è possibile Che palle Beh ovviamente ora non mi lamento Perché comunque abbiamo segnato però Cioè che pallosi che sono sti qua Ma proprio che palle Forse quest'auto non è il massimo né kick off Perché è davvero bassa sulla punta Però potrebbe Se lo sappiamo sfruttare È anche un vantaggio Il fatto di essere bassi sulla punta Sì vabbè raga Però io pensavo che la prendesse il mio compagno Dai guarda lì che schifo che fa Guardalo Io l'ho visto lì sulla palla E ho detto vabbè dai la prende lui Posso anche Posso anche salire in attacco in teoria Me la dovrebbe spingere No lui la manca Perché è un bot Raga ma sono tutte persone vere Ma come fanno ad essere così Scarsi nell'anima Maronne sante Ma che cavolo l'ha fatti Nash Infami laidi Laidi Ma perché il mio Tira però Se il mio compagno Non è in mezzo È dal È in congo eh Lo faccio io Il gol Le teste di cacchio Dai Dai Ma quanto posso mai godere io? Ma quanto posso mai godere? Ma quanto santissimo posso godere? Cioè raga Goll all'indietro mi ha dato Ah Questo vale come goll all'indietro Boh Raga mi ha dato una roba che si chiama goll all'indietro Non lo so se vale come goll all'indietro Ma vabbè Perché era più un gollo laterale Ah guarda come ti tanco Perché sono un bravo bambino Oh raga 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 Quest'auto è over the top Over the top Over the top Raga Tripletta mi ha dato Più 25 Ma raga Ma raga Cioè gli avversari però fino a prova contraria Non è che sono Non dico che sono chissà cosa Però Non sono troppo scarsi Di sicuro è più scherzi il mio compagno Quindi Io sono più che soddisfatto di questo scambio Che ho fatto io Poi non so Voi Scrivetemi Se voi l'avreste fatto nei commenti Fregato Ma poi derapa abbastanza Cioè derapa bello GG Derapa Derapa bene Quindi non c'è problema Quando gola Vole abbastanza dritto Quindi in teoria In teoria Non so perché ho detto in teoria Però vabbè In teoria dovrebbe Cioè una buona auto Consigliata Io la consiglio raga Raga La consiglio bot No raga Come ha fatto Come ha fatto Che era dritto il tiro Ah ecco appunto L'ho detto pure io Il tiro era dritto Non era troppo difficile Fararlo Oddio Il dribblo Il dribbling No Sono andato troppo aggressivo Su quella palla Come l'ho tolto Come 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 la palla Non è entrata Cioè o gli avversari Hanno dei problemi mentali O hanno dei problemi mentali Ancora più grossi Ma anche il mio compagno Probabilmente Ha dei problemi mentali Molto grossi Non farlo entrare Non farlo entrare Non farlo entrare Grazie Gesù Ho dribblato il mio compagno No Per fortuna Cioè oddio Per fortuna Non è che ci voglia troppo A dribblare sto bot Se lui la mettesse Vabbè Ora no 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 Raga Non l'ho certo eh Non l'ho certo sta cosa Si Si ha rimbalzato Non ci voglio credere Raga vedete che comunque È abbastanza dritta Quando vola Quindi vola bene Inclinata Perché mi sono inclinato io Comunque Quindi Raga Raga GG Per quest'auto Davvero davvero contento Di averla scambiata La mia auto Preferita La Fennec Se qualcuno di voi Me la vorrebbe scambiare O per questa O per la Endo O se riesco a riaverla La Samurai Ovviamente Se uno di voi Ha la Fennec Cercate su internet Se non sapete qual è La Fennec Raga Se uno di voi ce l'ha Vi prego Meladia Meladia La Fennec Se uno di voi ce l'ha Mi dia il suo nome Nei commenti Scriva il suo nome Nei commenti Questo video Scriva il suo nome Su Rocket League E mi dia La Fennec Vi prego Però dovete giocare Dovete avere Playstation Plus E giocare da Play Se no non possiamo fare gli scambi Non possiamo scambiare Se non siamo Se non siete da altre Cioè se siete da altre Per piattaforme Raga non ci fa scambiare Dovete giocare Per forza la Play Quindi raga Chiunque abbia la Fennec Chiunque abbia la Fennec E vorrebbe scambiarmela Per una delle mie Auto Io non gli dico di no Ma per niente Gli dico di no Raga Anzi Anzi No raga Raga Però dai Devo trovare sempre il pro Io Devo trovare sempre il pro Guardalo qua il pro Ma come che Sì vabbè però Se sto qua mi tanca Raga sto qua invece che giocare Tanca Tanca la gente Eh qua l'ha fatto l'errore Raga Qua ha fatto l'errore Grazie bro GG Qua l'ha fatto l'errore Raga Ha provato a fare Un hard Un hard shock Un hard shock Ma è stato stupidissimo Da parte sua C'è ama davvero Stupidissimo Il corpo è stupido Raga dimostra di essere stupido Raga Continua a dimostrare La sua stupidità Vedete che comunque Anche col volo Fatto io la caccata qua Bella Se madonna raga Ma che culo Mi è comporso il turbo davanti Ma che scemo Raga l'abbiamo driblato Cioè driblato Oddio Era Cioè non ho capito Perché si è fermato Non l'ho per niente Capito io Fa niente raga Scemo Raga Ma che Ma perché Deve tankarmi Ma cosa Sì vabbè Io l'ho spinto Però la palla Va dritta Cioè dai Guarda Io il tipo L'ho spinto Però la palla Non ho capito Perché va dritta Scusa Se io spingo Il tipo Che la controlla Anche la palla Si deve spostare Dove l'ho spinto Io Che senso ha A meno che era Staccata da lui Io non faccio E non rinè Dai Però Questo qua è culo Cioè tutto culo Guarda che schifo Dall'angolino Cioè dai È culo È totalmente culo Lo fa per sbaglio Sto qua Madonti No Ma godo Raga Sto qua Fale ero Eh no Adesso Adesso Te lo guardi Tutto Il mio cavolo Sto Cioè Adesso Guardi tutto Sto schifoso Gol Che ho fatto io Perché si Comunque Facceva schifo Cioè No Raga È impossibile È impossibile Giocare con sto qua Non posso giocare Con uno Non Mi deve fregare I turbi Fisso Però sto qua Guarda Questo me lo frega Pazza Questo me lo frega Ma dai Ma sta fermo Madonna Tutti i turbi Deve prenderli lui Madonna Quanto mi fanno incazza Sì vabbè Poi qua Sembra che non arriva Poi arriva Ma quanto godo Qua sembra che non arriva Sembra che sta fermo Poi alla fine arriva No Raga Ma se la palla Non va dritta Si sposta Raga se non mi Ma entra va Va a cagare Dai Guarda che schifo Guarda che schifo Guarda che schifo Ma quanto posso vedere Sono lì ma ho ancora capito cosa è successo Ha solo visto il mio goal E se lo guarda tutto Guarda What Raga Che successo Ah Allora il tipo c'è Scusa Ah si che c'è Si che c'è Si che il tipo c'è Ma si che il tipo c'è Vabbè è come se non ci fosse Perché mamma mia quanto fa schifo 6 a 4 nelle 1 vs 1 Raga Che schifo Raga guarda giù che toga GG Vedete che vola bello Cioè che bel volo che ha Raga Per oggi è tutto comunque Cioè dal vostro Davy Rocket95 Tutto Iscrivetevi al canale Attivate il campanellino Per rimanere sempre aggiornati Se nei prossimi video Lasciate in piace Iscrivete che gioco Dovrei portare Iscrivete nei commenti Che gioco dovrei portare La prossima volta E se siete arrivati A questo punto del video Commentate con Hashtag Ma Non lo so ragazzi Un commento che abbia senso Ma allo stesso tempo Che sia ignorante Ragazzi non lo so Allora vi do questa sfida Che scrive il commento Più ignorante Cioè chi scrive nei commenti Il commento più inutile Più ignorante della vita Lo saluterò in un video Nel mio prossimo video E gli manderò anche la richiesta Non so quanto ve ne possa fregare Però vabbè Da vostro informe Sì è tutto Ciao ciao Sì è tutto